Ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti con chi volete che porti questo video Perché magari, che ne so, con Sespo, mi chiede sempre i video con Sespo Abbiamo dei vecchi video con Sespo, sarebbe figo reagire a vecchi video con Sespo Bella raga, oggi siamo qui sul mio canale O forse no Il mio nuovo canale è Federico Marconi, non più AlfaTube In arte, Fede Marconi Conosciuto come anche, trattino basso, Fede Marconi, trattino basso su Instagram Mi raccomando, seguitemi Io non so se essere riemozionato perché stai dicendo cose commoventi O perché sono il nostro canale No, o perché esattamente, e anche O perché tra 3, 2, 1 La nostra voce improvvisamente è bella Bro, come stai? Sul canale Bene ragazzi, benvenuti qui sul mio canale Oggi siamo qui con un video incredibile Secondo me tu sei seriamente convinto che siamo sul tuo canale Allora, prima di iniziare qui Stringiamoci però perché ai lati ci sono i nostri profili Instagram Quanto cazzo? Il mio è qui Non so, non ho sicuro E oggi siamo qui con un video Perché siamo qui? Sicuro non possiamo stare lì Cioè, oddio, dipende Siamo più qui che lì però Con il dono dell'obiguità O dell'ambiguità Dal mio punto di vista Noi possiamo essere obbliguiti Allora noi Ad esempio noi in questo momento Mentre esce il video Potremmo essere In vacanza Una vita in vacanza Una vecchia che balla Niente fede che avanza Ma tutto il sequel Che fa capriole E poi prende un po' fuoco E si è spento il nostro sick Chiudevi il rime la DTG Comunque signori Sì l'avete capito Anche dal titolo Allora Un video che se non sbaglio Abbiamo già portato Qualche mese fa Per l'appunto Ma oggi reagiremo Un bel po' di mese fa Un bel po' di mese fa Oggi reagiremo Per la seconda volta Ai nostri vecchissimi video Partiamo con questo video qui Che è rischia il gusto challenge Come vedete Noi avevamo dei capelli imbarazzanti Non so se sia più imbarazzante Il fatto che Non siamo Tu non avevi i capelli Tu hai un cappello Pezzo di merda Il caso di gabbo Molto importante Ma non so se sia più imbarazzante Il fatto che Effettivamente In questi 4 anni Non siamo migliorati Guarda il camicia vivo Beh oddio Sì sì Facendo un po' schifo Oh Cristo È il brutto proprio Tra l'altro Da notare Con questo video qui 1592 visualizzazioni 138 like Cioè in pratica I numeri che faccio mo' Senza video No Allora I pazienti di gatto Cioè stai scusami Il video inizia con io Perché dico no Quindi però Vedi Sì guarda No Allora I pazienti di gatto No Non servono per masturbarci Oh Senti Lo pensiamo Oddio Sto in Dio No ragazzi Che lui stava cambiando la voce Aveva un po' la voce da trans Per via Guarda che guance l'avevo Che cosa hai detto Scusa Direi che c'è un rally di studio Di fare sotto la whisper Quindi chiaramente Vi abbiamo accontentato Siamo a meno YouTube USA Tra l'altro Tra l'altro Come fosse Chissà cosa Fenomeno YouTube USA Tu sia qua pelata Ma dove sta Là Esatto Vedi quello che vedo io Cioè io vedo proprio la luce Io Entro Tutti i droni Pesante Sì Colori Guarda la mia faccia Guarda la mia faccia Eccolo Il E' la mia Già di quattro Però Sette quanto interessa Ecco Il regolamento Sette quanto interessa Fragola O ascella Busole E' la madonna E' io in croce X C'è lei E' le parole Fai Che sti cazzo di zoom Pensai che schifo Allora Allora Come ce l'ho a grattare Comincia tu a grattare Ah E' il libro di piedi Eh Non è bene Il regolamento E' la madonna Vai Scegli tu Lo sa E' la madonna C'è un l'orecchino 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 Ti ricordi quel periodo Molto buio Della tua vita Io non sono modesto Però porca puttana Ha fatto una trasformazione Beh si Beh si Effettivamente Era in gravi condizioni L'orecchino Beh perché tu stavi Adderstando la fase Io con quella faccia Mi sono baciato Luis Cazzo Aspetta Tabu challenge Fammi un intro serio Fammi un intro serio Da notare Eh Il cambiamento drastico Di guance Sì 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 Dal passaggio Terza media Primo superiore Già stavo cominciando a cambiare Qui sì Qui c'avevi proprio Il fascino del fattone Scusate ragazzi Hashtag Fede piccolo Scurrile Bro quanto siamo scurrile Mamma mia Scureggiamo un sacco Ho detto grazie a Peppino Ma non è un gianno Ancora me lo ricordo E questa cosa mi preoccupo Ma io penso che tu ti rapido Sì ma c'è un déjà vu C'è un déjà vu e ti tiro di più Hai fatto la rima Aspetta È cremonoso È cremonoso Perché mi ricordo Di aver avuto un déjà vu In cui ti dicevo un déjà vu E tu mi dicevi E ti dicevo poi Ti tiro di più Ho già immaginato questa scena E tu hai chiuso la rima Cazzo ragazzi È bruttissimo questa cosa Come dicevamo prima La stessa faccia di Pugliese La regola è leggera o migliorata A spiegarle le regole Ok forse Da dovere Ok forse Non è che vuoi fare Non è che vuoi migliorare Sai che vuoi dire C'è vuoi fare questo video Oddio sì L'hai fatto Non è che vuoi farmi migliorare Ovviamente ma lui non a me Perché è stato bravo nella spiegazione C'è quello che praticamente Quando si chiama nella foresta Perché ancora non hai sentito le mie spiegazioni Il brocci Quindi praticamente questo fucile Che però Ha questo fucile Che però senza Questo elemento Non può Non fa Non basta No è il grilletto Il grilletto non è proprio il grilletto Il grilletto non è proprio il grilletto Perché se scrilezzi una grilletta Quella vuoi di grilletta Fatemi sapere qui sotto nei commenti Se volete Un'altra tabu challenger Andiamo a tutti i droghi Quando io dico Non so No però non posso Dico la parola Praticamente Dico del tuo corpo E dove passa Quell'impito rosso Come si chiama? Che tu hai Le l'impito rosso Le l'impito rosso Le l'impito rosso Come si chiama? Le l'impito rosso Io lo volevo aiutare Perché chiaramente a tabù Non potete dire La parola sangue Ma se la dice lui Ok La fa lui Ormai si fa di E non è know the end Non certe Nonia Una cosa che tu dici Non sono in Lypnea Sono in Arteria Arteria Eh quasi Oltre all'arteria che cosa c'è? È un'altra cosa Decisiva Cervello Inizia con la cina Il cuore Il cervello Ha ah 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 Ne le vele Come Ne le vele passa il cervello Come ci sei arrivato qua Non so perché inizia con la cina Non pensavo l'avrebbe mai detto Un po' lo scadso Non pensavo l'avrebbe mai detta Ma quanto sei ferrato nell'italiano Stai per pensare che avessi detto Non volevo sbagliare Non mi prendere per il culo Ci propiamo da becci Ci propiamo cazzo E un bacio Bene ragazzi siamo alla fine di questo video Incredibile mi sono sentito molto con uno youtuber classico Di quelli che fanno videotag molto simpatici E vanno in tendenza facendo videotag molto simpatici E vanno in tanto adatto Mi sento vecchio a vedere i nostri video Sì è stato bello No Però allora ne abbiamo visti pochi Soltanto due Perché secondo me comunque era importante Non far uscire un video troppo lungo Soprattutto è importante non spuntanarci eccessivamente Invece l'abbiamo fatto Non eccessivamente Perché c'è peggio di così Esattamente Bene Detto ciò ragazzuoli Allora il video è finito Il video è finito Mi sembra ovvio che sia così Lasciate like se ne volete altri Riprendiamo signori Che il Lombardi ha cercato di furbiare Allora ragazzi Vi giuro che siamo sobri Faccio fatica a credere E così Quindi Aspetta Scudo pure io Non si può Ciao Lasciate like Ciao E se volete altri video con il mio cugino Eccomi Vabbè è così che non c'è gusto E se volete altri video tra me E il mio cugino Come più cugino solo Li faccio Aspettate due giorni Ciao